Innovazione e sicurezza sono questi i principali aspetti su cui punta il mondo bancario italiano per soddisfare al meglio le crescenti esigenze di imprese, famiglie e nuove generazioni, di fare operazioni in mobilità in modo facile, veloce e sicuro. Secondo i dati dell'ultimo rapporto formulato da Abilab, centro di ricerca e innovazione per la banca promosso dall'Abi, nel 2017 il 92% delle banche ha aumentato o confermato il budget per lo sviluppo tecnologico rispetto all'anno precedente. Secondo lo studio, ai primi tre posti della top 10 delle priorità di investimento in innovazione per il 2017 troviamo le iniziative di pagamento digitale e mobile, la dematerializzazione di processi e documenti e i progetti di potenziamento delle infrastrutture tecnologiche, seguono la gestione del rischio informatico e l'ulteriore integrazione dei canali, le iniziative di data governance e data quality, il potenziamento di internet e mobile banking con particolare attenzione agli aspetti di sicurezza e l'automazione dei processi. Rispetto all'impegno del mondo bancario nella lotta ai crimini informatici, con lo sviluppo dell'economia digitale diventano sempre più innovative le procedure in grado di rilevare e bloccare tempestivamente operazioni e comportamenti che potrebbero liberarsi tentativi di frode. Ogni anno le banche italiane spendono oltre 250 milioni di euro per la sicurezza informatica.